Ciao amici, come va? Sono Tony Ray. Io volevo comunque ricordarvi, domenica 28 maggio sono stato ingaggiato come guest ripercorrendo delle canzoni in inglese che ha cantato Elvis. In origine erano napoletane e qualche chicca come My Way, quei altri canzoni, questi grandi miti mondiali che hanno comunque cantato le canzoni napoletane in versione inglese e anche qualcuno in napoletano. Tutte le info sulla locandina, vi dico l'indirizzo via Campo Sportivo 13 Granozzo con Monticello Novara e pensate, incominciamo dalle 12 fino alle 21, mezzanotte, ok? Vi aspettiamo tutti. Ecco, questa è una chicca che vi ho anticipato. Ciao ragazzi da Tony Ray, un bacione.